Continuiamo la nostra avventura su Ark Ragnarok perché ho ultimato la casa, quindi ho costruito tutto ciò che mi serviva e adesso vi presenterò la casa definitiva e successivamente inizieremo ad esplorare questa mappa perché andremo in giro e andremo a vedere subito quale dinosauro potremo iniziare a tamare subito per la nostra serie allora questo ovviamente è il tetto dove ci siamo visti per la prima volta e dove ero con i miei pterodattili e come potete vedere è abbastanza scuro e non ci ho messo niente perché al momento non mi interessa costruirci qualcosa se scendiamo come potete vedere ho illuminato tutta l'area come vi ho fatto vedere adesso ho messo i generatori ho messo tutto e infatti come potete vedere ho messo qua una smithy giusto per costruire magari qualcosa al volo magari se mi capita di costruire qualcosa al volo e come potete vedere ho messo due letti perché per adesso questa stanza la sto lasciando così un po' vuota perché magari in futuro mi servirà per costruirci qualche cosa ho messo anche due armadi uno qua e uno là sopra nell'eventualità avessi degli oggetti da dover recuperare subito e effettivamente li posso recuperare qui entriamo in una delle sale più belle di tutto il mio creato dove potete vedere ho messo un generatore qui ed un generatore lì qui ho creato la mia stanza di incubazione come potete vedere la mia stanza di incubamento chiamatela come volete dove appunto qua metterò le uova da far schiudere che poi successivamente porterò qua fuori e facendo fare tutto questo giro i dinosauri dato che sono piccoli o da qua o dall'altro lato potrò in un qualche modo farli uscire e farli arrivare qui dove appunto si ha la piattaforma dove vi ho detto prima dove metterò tutti i dinosauri magari volanti diciamo all'inizio ma poi successivamente avrò zone e zone dove mettere i miei dinosauri c'è una cosa che volevo dirvi che non sono riuscito a risolvere il problema del ponte infatti vedrò in un futuro di vedere se trovo qualche mod da poter utilizzare come un ponte elevatoio o una cosa del genere e la costruirò direttamente sul ponte per fare un'unica costruzione ho messo un frigo e una preserving bean perché nell'eventualità dovessi ovviamente prendere le uova di viverna mi servirà senza ombra di dubbio il latte e quindi di conseguenza servendomi il latte devo mantenerlo diciamo all'interno della preserving bean perché non può essere conservato in frigo mentre invece in frigo diciamo ho messo anche un frigo per tenere magari la carne la prime meat e tutto quello che mi serve per darli da mangiare ai possibili cuccioli che poi andrò a far schiudere io ho fatto anche un industrial forge come potete vedere così vado che era l'unica stanza in cui entrava precisa precisa l'ho voluta mettere qua così nell'eventualità dovessi avere del metallo o comunque fare dei grossi carichi di metallo con quezzale e via dicendo posso tranquillamente entrare dal mio hangar che si trova di qua come potete vedere e trasportare il metallo direttamente qui e successivamente raffinarlo il che mi sembra una cosa molto molto comoda se scendiamo ancora andiamo al piano inferiore che come potete vedere per adesso è vuoto anche questo ho messo una serie di armadi dato che qua comunque ho fatto un altro letto a castello e qua possibilmente metterò tutto equipaggiamento cose che non mi servono e farò una sorta di magazzino dove metterò tutti gli oggetti che accumulerò durante il gioco scendiamo infine nel piano terra dove appunto come potete vedere ho messo un portone un dino gate molto molto figo qua voglio vedere se mi esce acqua perché ne ho bevuta veramente pochissimo dato che ho diciamo creato la serra quindi è un grosso problema perché dato che non ho acqua potabile ho soltanto una vena d'acqua che adesso vi farò vedere purtroppo l'acqua mi va a intermittenza ma comunque adesso ne parliamo qua ho due armadi che ho ovviamente messo con dei materiali di prima emergenza come potete vedere ho fatto la scorta perché questi saranno i miei materiali iniziali mentre invece tutti quanti gli altri materiali che dovrò utilizzare all'interno del gioco me li crafterò da me questi sono soltanto diciamo un booster pack che mi sono voluto fare per facilitarmi un po' l'avventura qui ho messo anche una smithy per potermi costruire le munizioni per i fucili per i vari fucili dato che comunque col fabbricatore con l'assemblatore non posso creare di tutto qua come vi ho detto ho messo un dino gate che appunto mi permette di andare fuori come potete vedere sta albeggiando il che è figo e là sotto come potete vedere ho messo un bahamut gate che praticamente mi chiude la fortezza e mi permette di avere il castello tutto mio indipendente qua ho messo un altro generatore qua ho illuminato l'area allo stesso modo qua ho fatto l'angolo cucina dove ho la cucina da la cucina industriale la griglia industriale due preserving bin per poter fare carne essiccata e due frigoriferi che mi permetteranno di mantenere la carne o altro al fresco anche le uova soprattutto qua ho fatto due banchi chimici perché comunque i banchi chimici ne utilizzerò a pacchi per produrre polvere da sparo per produrre polvere epirica narcotici e chi più ne ha più ne metta e poi un assemblatore per produrre i colpi magari di qualche altro fucile o comunque costruire le cose più importanti da poter poi utilizzare in casa qui ho messo anche un altro letto qui all'angolo proprio per nell'eventualità dovessi morire posso responare direttamente qui e craftarmi nuovamente tutto l'equipaggiamento che mi serve qui ho messo un bahamut gate come potete vedere che arriva fino alla sopra ci arriva preciso preciso e come potete vedere quando chiudo la porta è perfettamente chiusa e non si riesce ad entrare all'interno della fortezza ed è una cosa che mi piace tantissimo qui invece ho costruito la serra come potete vedere dato che avevo a disposizione l'avena d'acqua anche se ho scoperto che purtroppo l'avena d'acqua non è molto pratica per una serra perché come potete vedere l'acqua viene consumata continuamente e quindi di conseguenza devo trovare una soluzione alternativa alla serra perché non posso assolutamente avere una serra in queste condizioni qui ho i due gate che vi ho fatto vedere nella scorsa puntata dove appunto possiamo uscire tranquillamente e andare a piedi questa sarà diciamo la mia zona un po' dove metterò tutti i miei dinosauri di terra sarà diciamo una stalla all'aperto quasi per così dire anche perché comunque essendo in una campagna single player non ho il problema che qualcuno possa venirmi a dare fastidio quello che vi volevo fare vedere invece come potete vedere qua ho messo un dino gate un bamut proprio per fare il collegamento al ponte che secondo me è stra figo e qui invece ho messo due fondamenta di pietra che però con delle passerelle vedete mi permette solo di fare questo lavoraccio cioè se io dovessi portare dinosauri da questo lato non so proprio che pesci prendere soprattutto non so come farli arrivare nella mia base qui si pone lo stesso problema perché come potete vedere c'è un altro ponte che è staccato e quindi vorrei vedere se magari nel workshop possibilmente off camera posso trovare una mod o un qualcosa che mi permetta appunto di costruire una sorta di ponte elevatoio o comunque di mettere una pezza e poter costruire un ponte al 100% per successivamente collegare finalmente il mio castello al mondo diciamo al mondo in generale l'unico dinosauro che tra virgolette ho tamato con i comandi da console è stato l'opteranodonte che avete visto all'ingresso qui ovviamente si fa tutto il giro come vi ho fatto vedere nella scorsa puntata questo è stato diciamo l'unico l'unico dinosauro che ho tamato per ora ovvero un'opteranodonte e ovviamente gli ho messo anche la sella gli aumentiamo un po' la stamina perché mi sembra cosa buona e giusta e quindi direi che possiamo cominciare appunto ad esplorare la nostra mappa qui innanzitutto scendiamo sì se magari mi fai ecco se magari mi fai scendere ecco mi sono buggato nella texture ecco perfetto qua non mi fa assolutamente salire adesso ed è un casino vediamo se da qua mi fa salire sì meno male oh perfetto ok e appunto possiamo in un qualche modo iniziare ad esplorare finalmente Ark Ragnarok certo l'unico problema sarebbe comunque ripeto il ponte perché se dovessi tamare dinosauri o comunque creature cioè creature che si muovono a piedi ovviamente io ancora non ho notato se c'è effettivamente un'altra zona per poter arrivare per poter arrivare al castello ma secondo me no perché non ho notato altri diciamo non ho notato altri accessi perché come potete vedere siamo proprio su una montagna quindi praticamente dovrei sistemare necessariamente quel ponte per far sì appunto che i miei dinosauri possano salire quindi innanzitutto vediamo qua questa zona che è veramente figa anche perché comunque il castello dove appunto ci siamo dove appunto vedete dove appunto ci siamo introdotti con la forza è sopra il punto della palude infatti come potete vedere siamo sopra la zona paludosa e sinceramente a me la zona paludosa non mi piace proprio non mi piace completamente quindi proprio ci staremo alla larga e ci faremo massimo qualche puntata giusto per tamare qualche dinosauro così ma niente di che andiamo invece da questo lato vediamo un po' cosa c'è da questo lato quali dinosauri possiamo iniziare a trovare beh innanzitutto ci sono i classici herbivori stegosauri brontosauri poi vedo alcuni triceratopi altri triceratopi quelli diversi paghinosauri non mi ricordo come si chiamano pteranodonti ecco sì qua è perfetto vabbè cominciamo la nostra avventura su arc ragnarok e cominciamo il nostro timing del primo t-rex che ovviamente sta scappando quindi io mi metterò qua sopra non l'ho colpito mai proprio se ne sta dove sta scappando ma porca miseria ci avevo trovato che avevo trovato la la zona dove poterlo tamare eccoci mi sta guardando finalmente sì sì vieni 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 brava così brava vieni bravissima eh ma quindi i dinosauri sono più intelligenti cioè vedete appena vede che non mi riesce a prendere cioè se ne va oh si è bloccato vediamo se lo colpisco sì lo colpisco bene lo sto colpendo ancora bello in testa perfetto ovviamente dovrò tamarmi anche argentavis cioè tamerò tutti i dinosauri presenti all'interno del gioco però diciamo un t-rex livello 90 sinceramente non lo posso lasciare ecco ma cosa sta facendo ma cosa sta facendo addirittura sta avvenendo verso di me sei così sprezzante del pericolo eh volevi colpirmi vero e invece e invece ti devi addormentare per favore perché così ti posso tamare ecco adesso non lo vedo più che è un problema oh cacchio beh qua dovrei essere al sicuro sì oh trodola l'insenatura perfetta gli sto vedendo sangue non vorrei che mi ci muoia ma non penso cioè comunque il livello 90 dovrebbe avere parecchia vita sì se poi magari mi ci cadi un attimo quando hai tempo cioè devo inseguirlo a piedi va va la cosa brutta comunque del fatto che sono a piedi è che qua ecco c'erano questi raptor e se mi dovessero cioè ma dove se ne sta andando beh il fatto che sta scappando comunque è una cosa positiva vuol dire che ci sta per cadere ma ma dove sta andando oh è caduto ci è caduto ottimo eh però madonna mia cioè mi è caduto lontanissimo qua proprio vabbè qua comunque come zona sembra abbastanza tranquillo considerando il fatto che diciamo non conosco la mappa però almeno così a occhio e croce sembra abbastanza tranquilla la la cosa che cos'è questo? non galliminus madonna mi sono cacato cominciamo a prendere un po' di carne perché così magari appena arrivo là dal t-rex ah non può salire? oh non può salire oh merda sì che può salire eh vabbè ma qua non può salire però eh ora vuoi assai se ti addormenti mi fa un favore poi queste cose le possiamo togliere per ora perché non mi interessano va bene direi che per ora va bene così cioè ho due dinosauri da tamare già uno vicino all'altro quindi va bene quindi va bene ci sta questo è già al 47% anche se ha finito la prime tu aumenta un po' il peso così sei un po' più utile perfetto il carno si è tamato quindi adesso mi può seguire direi da qua vieni di qua è già arrivato al livello 209 cioè assurdo ecco mi sto seguendo bene vieni di qua bravo adesso vieni di qua tra l'altro sono anche due femmine quindi sono molto molto utili bene e adesso mi posso fare seguire da entrambi e possiamo portarli a casuccia il t-rex però mi sa che è rimasto bloccato tu resta qua un attimo si era rimasto bloccato bravo ecco girati e andiamo perfetto sono insieme possiamo andare allora qua c'è anche del metallo nel frattempo sto notando allora fermiamoci un secondo aumentiamo la stamina 133 tirannosauro e 209 il carno direi ottimo andiamo da questo lato perché casa mia eccola è da quel lato tra l'altro c'è anche un altro t-rex vediamo che il livello è livello 25 vabbè lo disintegreranno ai eccolo eccolo operala guarda guarda come ci è morto e là anche ci morirà tra poco anche lol perfetto allora fermiamoli qua un attimo perché comunque qui ho il problema del ponte che non posso diciamo non posso non posso sfruttarlo allora sono riuscito a costruire come potete vedere qua sono riuscito a collegarlo perfettamente sembra proprio un ponte vero e proprio mentre invece da questo lato come vi posso fare vedere adesso ho unito il ponte ma è rimasta una piccola apertura che tecnicamente come potete vedere camminandoci non non succede niente però spero che i dinosauri non mi restino incastrati di là ovviamente adesso lo scopriremo però prima dato che comunque posso farlo mi vado a craftare le selle dei diciamo dei due dinosauri che in questo momento stanno disintegrando un raptor livello 100 c'è da dire però che comunque qua i livelli dei dinosauri sono molto 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 alti quindi vabbè mi vado a craftare le selle e ci vediamo tra poco oh perfetto si è anche fatto buio tra l'altro e e come dire a parte che sono pesantissimo non so perché ah si mi sono rimasti due tetti che posso buttare via tranquillamente tu sei pieno di carne vabbè ma non mi interessa quindi facciamo la prova del 9 prima andiamo col carno vediamo se riesco a passare allora di qua tranquillamente se riesco a passare anche da là siamo perfetti cioè ho risolto il tutto ecco ovviamente la cacca che non manca uh possiamo passare bellissimo qui apro il mio cancello ecco e lo mettiamo qua per ora tanto non per adesso va bene così adesso ritorno indietro ogni volta che passo da là mi cago addosso però penso che meglio di così non possa fare quindi va bene mi sta benissimo qui c'è una pietra metallica tra l'altro quindi posso farmare metallo anche qua proprio davanti casa buono ottimo questo mi serve perché poi dovrò farmarmi gli oggetti una volta che finirò quelli che mi sono messo da me adesso mettiamolo qua l'optero anche se poi lo porteremo nella nostra stalla volante e adesso portiamo anche il t-rex dall'altro lato allora prendiamo il t-rex scendiamo la torcia così perfetto ma perfetto perfettissimo e siamo arrivati tranquillamente a casuccia eccoci qua ottimo qua possiamo chiudere che livello sei 50 vabbè fai schifo qua possiamo chiudere e qua il nostro optero possiamo andare verso la nostra stalla aerea che è questa qua perfetto allora lui gli lasciamo un po' di carne addosso tipo questa mentre invece tutta l'altra la mettiamo qui nella mangiatoia dovrò costruire poi varie mangiatoie anche sotto in modo tale che poi i dinosauri che ho preso appunto i dinosauri da terra possano in un qualche modo mangiare perché comunque si avranno la carne nell'inventario però diciamo è diverso ecco non è la stessa cosa e dovrò necessariamente farli mangiare anche tramite le mangiatoie qua intanto è tutto libero qua potrò costruirci in futuro tante di quelle cose che veramente non ne ho la più pallida idea di quante cose possa costruire mi piace tantissimo la base che mi è venuta fuori sinceramente mi piace veramente veramente tanto anche se per adesso per questa puntata possa essere tutto io direi che ci vediamo alla prossima adesso io andrò penso a tamarmi forse qualche argentavis forse me ne vado a tamare due voglio la coppia in modo tale da poter produrre le uova e poi e poi non lo so dovrei tamarmi anche un quetzal però il quetzal lo tamiamo insieme visto che non l'ho mai portato il timing di un quetzal e poi e poi tutti gli altri dinosauri che che riusciremo a tamare quindi va bene io direi che per questa puntata è tutto per adesso e ci vediamo alla prossima